Non chiunque mi dice signore, signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Signore, signore, non abbiamo a noi profetizzato il nome tuo e il nome tuo cacciato demoni e fatto il nome tuo molte opere potenti. Allora vi chiederò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanati davvero a fattore.